Nel corso dell'evoluzione l'essere umano si è sviluppato da questa posizione ricurva del corpo dell'uomo preistorico per giungere alla posizione retta dell'uomo sapiens. Solo che, nello spazio degli ultimi venti anni, con l'invenzione del computer, è ritornata a questa posizione del corpo. Scherzi a parte, il lavoro e la tensione e la scrivania impegnano il nostro corpo più del lavoro fisico, soprattutto se uno sente il fiato del capo sul collo. Chi conosce questa sensazione e questa tensione alla nuca dovrebbe ora fare con me questo piccolo esperimento. Ognuno metta sulla punta di un dito un pizzico di queste dimensioni circa di Aloe Massage Lotion e poi la applichi da solo, così, dietro alla nuca. Quanto più massaggerete, tanto più si svilupperà una piacevole sensazione sulla pelle e sui muscoli sottostanti. Noterete anche che massaggiando a lungo la pelle non arrossisce perché non operiamo con il veleno delle api, che irrita la pelle o con qualcosa di simile. Esattamente il contrario. La lozione da massaggio è un prodotto intelligente che lascia al corpo il compito di sbrogliarsela da solo. Si prega però di evitare il contatto con gli occhi, perché potrebbe irritare. Se i vostri piedi dopo il lavoro o dopo lo sport sono bollenti, allora la soluzione è la lozione da massaggio. Il profumo che emana in maniera così intensa a casa vostra, così come qui nello studio, è quello di Aloe Massage Lotion, articolo numero 64. Quello che profuma così è anche ciò che rende unica questa lozione. Mentolo, olio di eucalipto e pervinca. Di pervinca profumano d'altronde gli spogliatoi dei giocatori di football americano, particolarmente nei punti in cui l'apparato motorio è messo fortemente in azione, gli sportivi fanno volentieri ricorso subito dopo alla Massage Lotion. La lotion è stata sviluppata propriamente per l'apparato motorio, per il massaggio dopo lo sport o dopo una giornata stressante in ufficio. Può essere utilizzata anche molto bene per il riscaldamento prima dello sport, per esempio ai polpacci. Produce un effetto positivo anche sulle mani e sulle dita del massaggiatore stressato. Chi non ha un massaggiatore a portata di mano può anche scegliere la Massage Lotion nel nostro spray e poi spruzzarla. Si prega poi di mettere un'indicazione sulla bottiglia. Nel caso di raffreddore si può anche applicare la Massage Lotion molto sottilmente sulla gabbia toracica o addirittura versarne qualche goccia nella vasca da bagno. Abbiamo dimenticato la cosa più importante. L'ingrediente principale della Heat Lotion di Forever è il gel stabilizzato di aloe vera. Ha effetti curativi, calmanti e nutrienti sulla pelle stressata, mentre il calore piacevole stimola la circolazione sanguigna. Insomma, è particolarmente delicato per la pelle. Ciò è stato dimostrato anche dall'Istituto Indipendente Dermatest che ha attestato alla Heat Lotion di Forever la volatazione ottima. Ecco, allora ricapitoliamo. La lozione da massaggio è ideale per il massaggio e produce un effetto benefico all'intero apparato motorio. Stimola il rilassamento dopo il lavoro o l'attività sportiva. aiuta nella fase di riscaldamento prima dello sport, cura e al contempo nutre la pelle grazie al suo ingrediente principale, l'aloe vera, e mi raccomando, non fatela entrare negli occhi. Il nostro gel MSM di Forever è un gel duttile che penetra rapidamente per tonificare la pelle, il tessuto connettivo e la muscolatura. MSM sta per metilsulfonilmetano, uno zolfo organico che si trova in tutti gli organismi viventi. In effetti lo zolfo è la terza sostanza più comune nel nostro organismo. L'altro ingrediente basilare del gel MSM, articolo numero 205, è puro succo di aloe vera stabilizzato. Succede spesso che i clienti più giovani e in particolar modo gli sportivi comincino usando aloe heat lotion, articolo numero 64. Con la heat cream raggiungono poi rapidamente grandi prestazioni nell'apparato motorio. grazie al piacevole calore e al raffreddamento, a seconda di quello di cui ha bisogno l'organismo in quel momento, col passare degli anni però e invecchiando, cambia anche il gusto dei nostri distributori. Molti fanno poi la scelta di aloe MSM gel, articolo numero 205. Come si spiega, Ralf? La crema deriva il suo nome da MSM, ovvero da metilsulfonilmetano. È una forma biologicamente attiva dello zolfo e si trova perciò per lo più in organismi viventi. Lo zolfo, dopo il calcio e il fosforo, è il minerale che nell'ordine è il terzo più comune nell'organismo. In origine era presente misura preeminente nella nostra alimentazione. Oggigiorno, già solo a causa della cottura ad alte temperature e della lunga giacenza degli alimenti, deviene mancare spesso fino al 90%. L'MSM penetra rapidamente nella pelle e lungo il suo percorso verso il basso porta con se i suoi ospiti. Uva ursina, olio dell'albero del tè, rosmarino e salice bianco. L'uva ursina e l'olio dell'albero del tè tengono a distanza visitatori spiacevoli nel manto acido protettivo della pelle, ricco di batteri. Per gli aborigeni dell'Australia, l'albero del tè d'altronde rappresenta una pianta mistica, sin dai tempi più remoti. L'odore a sprigno si combina con la forza e col vigore. Anche nella crema MSM il profumo chiaramente dominante è quello dell'olio dell'albero del tè. E il rosmarino e il salice bianco nell'uso popolare venivano spesso impiegati anche come tisane. Qui è tutto ben combinato insieme all'ingrediente principale, l'aloe vera. La crema MSM si combina benissimo con il succo da bere Forever Freedom, che contiene anch'esso MSM, articolo numero 196. Si combina però alla perfezione anche con Heat Cream di Forever, articolo numero 64. Ricapitoliamo in breve. Il gel MSM è un gel duttile che penetra rapidamente e che dà sollievo. Alla pelle, al tessuto connettivo e alla muscolatura. Di grande aiuto per pelle sottoposta a stress. Per piccole punture di zanzare e impurità della pelle. Può essere utilizzato per effetti più prolungati anche come impacco o addirittura come fasciatura. Grazie. Grazie a tutti. Rosso Zanzare. Un'****. Grazie a tutti.